Sì, sono uomo, sì, beh. Sono già uomo. Sì. Sì. Oh, oh, vieni qua! C'è una banda di zingari che sta facendo un casino, stanno rubando tutto. E' il padre! Non è che, non è che, non è che, non è che. Iniziano, iniziano, iniziano... Iniziano, 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 iniziano... Cinque! Vieni la vita! Perché l'abbia portato io fu un giro che spaccava la macchina qua. Ma una volta. Dopo non era. E poi non siamo tutta la famiglia. Ma dovrei pensare a rubare il mare. E' tutto davvero. Fio! 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 Ladies and gentlemen, you're watching Hey You Guys! Hey You Guys, huh? Is that from the Goonies? Nice. Hey You Guys! Hey You Guys! Hey You Guys! Hey You Guys! Be liked this video!